Signori oggi voglio ricreare un video che feci, cioè non ricreare, allora il content del video si basa sul video di cui ho visto per raccontare Allora vi dico perché sono scomparso, perché non ho più pubblicato, ho avuto la tosse, ho avuto un po' di tosse Sì ho avuto la tosse e quindi sì ho avuto la tosse e tutti questi altri problemucci e non ho registrato Sì, ecco il motivo per cui non ho registrato Il video che diciamo sto provando a rifare, qual era? Era un video che feci tipo nel 2021 O nel 2021 O nel 2020 No, 2021 Sicuramente in 2021 Ero in Non lo so se Ero in In Come cacchio In Vabbò quella cosa La cosa bianca La cosa bianca La cosa bianca La cosa bianca con la K Ok? E in pratica Io ho Io in pratica Ho In pratica ho fatto questo video perché Sì Non registravo tanto Però questo non è Però ero in camera Da letto mia Avevo Ecco la canottiera Adesso Adesso dovete chiamare la canottiera Da questo video in poi Cosa bianca Ho creato un nuovo meme E poi Io Eh sì Comunque Avete la canottiera Registravo In camera mia E E letteralmente Ero io che camminavo Spiegavo Spiegavo un po' di cose E Mi incoraggiavo Diciamo a fare più video Speriamo che Domani Faremo Che domani Faremo Un nuovo video Perché veramente Mi serve Ci vediamo Ci vediamo Ciao 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 Ciao